Un vero disagio quello che ormai da tantissimi anni vivono le famiglie residenti presso le palazzine Ater di via dei Setaioli a Penne. A preoccupare gli abitanti di questa zona ci sono soprattutto le tantissime infiltrazioni di acqua che non solo arrecano disagio alle pareti interne delle abitazioni ma le stesse coinvolgendo all'interno delle crepe del muro di contenimento stanno facendo scivolare a valle le stesse abitazioni. A sostegno delle famiglie è intervenuto il consigliere regionale del movimento 5 Stelle Domenico Pettinari il quale immediatamente chiederà spiegazioni al presidente dell'azienda Ater di Pescara. Il tutto non si sa c'è un rimbalzo di competenze da parte dell'Ater, il comune non si sa chi deve intervenire, fatto sta che sono case Ater quindi se in sombra di dubbio l'Ater deve mettere in sicurezza gli alloggi pubblici di sua proprietà, invito quindi l'Ater a fare questo, io depositerò una diffida all'Ater chiedendo immediatamente un intervento e un'informazione dettagliata su cosa è stato fatto e poi invito anche il comune a vedere e a verificare la strada perché poi per le competenze vedranno loro però intanto devono mettere in sicurezza la strada perché i cittadini non possono continuare a vivere in questa situazione di pericolosità e disagio e se dovesse fare qualche altra scossa di terremoto punto interrogativo, io non ci voglio neanche pensare. Ma le difficoltà per queste persone non finiscono qui. A preoccupare c'è inoltre la strada d'accesso alle abitazioni ormai diventate impercorribile per le enormi buche create si nel tempo mettendo a dura prova i residenti di cui alcuni con diverse disabilità. Gli stessi portatori di handicap inoltre hanno richiesto da tempo di abbattere le barriere architettoniche ma ad oggi senza risultati. Purtroppo la situazione è diventata insostenibile anche perché la palazzina la maggior parte degli abitanti sono tutti anziani quindi non è concepibile una cosa del genere e il problema nasce laddove il comune dice che dell'ATER, competenza dell'ATER, l'ATER invece ci rimanda al mittente e tutto uno scarica barile così non si può più andare avanti. Mi auguro che qualcuno non si faccia male perché io mi sono fatta male proprio martedì scorso. Sono caduta purtroppo in una buca, ecco io che chi dovrei denunciare adesso? Io sono andata anche personalmente al comune e non so se è il caso di dire che cosa mi hanno risposto perché è semplicemente vergognoso e lo dico apertamente e ci metto la faccia perché purtroppo l'Italia è questa.